Dopo aver scritto la storia a Tokyo con l'oro olimpico, Gianmarco Tamberi è il primo italiano di sempre a conquistare il diamante nella Wanda Diamond League, il massimo circuito mondiale dell'atletica. Il campione olimpico del salto in alto trionfa nella finale dello stadio Lezikrund con la misura di 2'34 fa impazzire il pubblico con uno show straordinario. Il saltatore delle fiamme oro infatti, che dopo la vittoria per festeggiare tira fuori da una borsa alla medaglia d'oro di Tokyo, se la mette al collo e avvolto da un tricolore va a farsi foto e selfie con il pubblico. Tamberi, oltre al trofeo creato dal celebre gioiettiere Bayer, un'istituzione a Zurigo, porta a casa 30 mila dollari del prize money e chiuderà la stagione al primo posto nel ranking mondiale superando il bielorusso bronzo a Tokyo. Inoltre riceve l'applauso di tutti gli altri big mondiali e del pubblico di Zurigo competente e appassionato. Tamberi diventa il quarto a vincere la propria gara al meeting di Zurigo dopo Cova, Panetta e Donato.